Eros Pellegrini, inizia la Coppa Italia per il Pisa, Coppa Italia che ti ha vista l'anno scorso protagonista di una finale, proprio a scapito dei nere azzurri. L'anno scorso siamo andati in finale grazie a una partita strepitosa proprio all'arena, poi con la Tina è andata male, è una competizione che l'anno scorso abbiamo tenuto conto e anche quest'anno credo che non sia una partita facile. La Reggiana è un avversario difficile che si conosce poco perché è dell'altro girone, sarà una gara secca quindi con tante incognite. Sì, io credo che nessuna squadra sia da sottovalutare, soprattutto la Reggiana che appunto non si conosce, credo che il mister però saprà mettere in campo la formazione migliore per ottenere il risultato. Ultima cosa sul campionato, pareggio a Catanzaro, Pisa secondo da solo in classifica. Sì, è un pareggio che è stato sofferto, soprattutto perché loro credo siano una delle squadre che fino alla fine cercherà di centrare la promozione. Siamo stati bravi a stare secondo me corti con la squadra e ancora una volta abbiamo dato segno che in trasferta possiamo arrivare alla fine senza subire gol, che è importante.